Il maltempo non accenna a placarsi, dopo le abbondanti piogge di domenica e gli allagamenti e gli esplodono le polemiche. Il problema è sempre lo stesso, il sistema idrico fognario. Nel frattempo va avanti la pulizia di caditoie e alve fluviali. Ieri la commemorazione dei defunti al cimitero con la celebrazione della Santa Messa del Vescovo. Grande partecipazione, deposte le colonne caduti. Intervista al giovane tennista algherese Lorenzo Carboni, che dopo il titolo italiano Under 16 ha conquistato il suo primo internazionale a Bari. Un saluto a tutti voi, bentrovati a una nuova edizione del nostro telegiornale. Ancora il maltempo in primo piano, i disagi in città. Anche oggi Alghero è interessata da precipitazioni non copiose, come quelle di domenica, ma comunque da tenere sotto controllo. Inevitabilmente si parlerà di questo, di disagi, soprattutto nel prossimo Consiglio Comunale, e considerando che all'interrogazione del centro-sinistra si è giunto il Movimento 5 Stelle, che dice basta con i rattoppi. Perché non si rivedano le immagini di domenica, fotocopia di quelle già viste da tanti anni, servirà a fare un discorso serio con Abba Noa. Lo ha ammesso l'assessore all'ambiente Andrea Montis, che per quanto di sua competenza ha fatto sapere che si è proceduto sin da agosto alla pulizia delle caditoie. Operazioni che vanno avanti, così come la pulizia degli alvei fluviali sul rio Calvio in direzione Valverde dagli uffici comunali fanno sapere che nei prossimi giorni si procederà in altre zone che verranno comunicate anche sull'app Municipio. Ma si guarda ora soprattutto a lavori strutturali che possono davvero porre fine ai numerosi disagi in cui incorre la città quando le precipitazioni superano una certa soglia. Il problema principale è che l'impianto idrico fognario non regge la massa d'acqua che si riversa soprattutto nella parte bassa della città e dunque via Garibaldi e Lido. Il tema, già al centro del dibattito politico ormai da anni, sarà quasi certamente affrontato nel prossimo Consiglio Comunale, anche perché il centrosinistra ha presentato un'ulteriore interrogazione e altrettanto hanno fatto le due consigliere comunali del Movimento 5 Stelle, Maria Antonietta Livesi e Giusi Di Maio. È sotto gli occhi di tutti che il problema delle caditoie intasate è solo parte del problema, ma segnalano le due esponenti di opposizione. Bisogna fare il punto sulle problematiche della rete fognaria. Infatti, in gran parte della città le condotte sono miste, acque bianche e acque nere, che in caso di pioggia porta le fogne a riversarsi nelle strade, soprattutto lungo la via Lido e passeggiata a Buschè e in mare. La portata dei tubi potrebbe essere ridotta per sedimentazione nel lume di sabbia e altri detriti e che dire delle vasche di primo accumulo dislocate a nord e a sud della città, si chiedono. Prima di giudicarlo un'opera insensata, forse è il caso di cercare di capire seriamente quali problemi si annidano. È un problema annoso, lo sappiamo, ma se non lo si prende in mano con una programmazione di interventi, che magari richiederà anni, non lo risolverà mai. Alghero, concludono Alivesi Di Maio, merita di più del consolidato Rattoppo. Il mio argomento, un finanziamento di 395 mila euro per i progetti volti al miglioramento della capacità comunicativa dei CEAS della Sardegna, lo ha stabilito la giunta regionale su proposta dell'assessore all'ambiente Gianni Lampis, un sostegno concreto per migliorare e potenziare l'azione dei CEAS, dice l'assessore, sono ora approvati gli indirizzi per la pubblicazione di una manifestazione di interesse per il finanziamento di progetti volti a migliorare la capacità di comunicazione dei CEAS della Sardegna rivolte agli enti pubblici titolari di un CEAS accreditato o non accreditato. Possono presentare domande i comuni e gli enti gestori di aree marine protette e parchi nazionali e regionali in qualità di soggetti titolari di un centro di educazione ambientale alla sostenibilità. Con tale iniziativa, sottolinea l'assessore Lampis, intendiamo promuovere progetti per la realizzazione, il potenziamento e l'ammodernamento dei sistemi di comunicazione digitale e multimediale dei CEAS al fine di migliorare la loro comunicazione e ottenere maggiore operatività nei confronti di istituzioni, cittadini, scuole, imprese e altri soggetti interessati. I centri di educazione ambientale sono importanti presidi culturali, dice ancora l'assessore, impegnati a migliorare la qualità ambientale dei territori e a promuoversi in un'ottica di sviluppo turistico sostenibile. Le richieste di finanziamento dovranno pervenire entro le ore 24 del prossimo 8 novembre. Un passaggio, come sempre, sulla situazione Covid, stabili contagi. Nel bollettino di ieri, 30 nuovi casi di positività sulla base di 934 persone testate. Sono stati processati in totale fra molecolari antigenici 2431 teste. Si sono registrati però anche due decessi. Mentre per quanto riguarda la pressione ospedaliera, i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7, uno in più rispetto al giorno prima. Mentre quelli ricoverati in area medica sono 42, due in meno. Sono invece 1298 i casi di isolamento domiciliare. Ed è stata davvero partecipata la celebrazione in memoria di tutti i defunti che si è tenuta ieri pomeriggio nel piazzale di fronte alla cappella del Camposanto di via Vittorio Emanuele. La messa è stata presieduta dal vescovo Monsignor Mauro Maria Morfino. Sono presenti autorità civili e militari, quindi naturalmente il sindaco Mario Conoci, la vice sindaco Giovanna Caria, il presidente del Consiglio regionale Michele Paes, il presidente del Consiglio comunale Lelle Salvatore e Pietrino Fois, commissario straordinario della provincia di Sassari. Una volta terminata la cerimonia, un piccolo gruppo con la capo il sindaco e il vescovo insieme al presidente del Consiglio regionale si sono addentrati all'interno del cimitero per la deposizione di due corone all'obelisco dei caduti e ai piedi della lapide che ricorda i caduti di tutte le guerre. Il sindaco poi ha fatto un giro privato all'interno del Camposanto visitando le tombe di tutti gli ex sindaci di Alghero e su ognuna ha deposto un fiore. Intanto domani 4 novembre, giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate, e alle 9.30 il sindaco deporrà una corona di alloro presso la lapide di Porta Terra. Alla cerimonia sono invitati i rappresentanti delle Forze Armate e delle Forze dell'Ordine, l'autorità membro del Parlamento, il presidente del Consiglio regionale, l'amministratore straordinario della provincia di Sassari, le rappresentanze del Consiglio comunale, nelle persone del presidente e di un rappresentante per i gruppi di maggioranza e opposizione, un unico rappresentante per tutte le associazioni di ex militari. combattenti. Ora ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, tra poco con la seconda parte. Dall'14 ottobre scorso ha preso il via il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2021. dal 2018 il censimento si svolge annualmente, non più ogni dieci anni coinvolge ogni anno solo un campione rappresentativo di famiglie. Il Comune di Alghero fa parte di questa rilevazione censuaria che permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale. Grazie all'integrazione dei dati raccolti dal censimento con quelli provenienti dalle fonti amministrative, l'Istat è in grado di restituire informazioni continue e tempestive rappresentative dell'intera popolazione. Informazioni utili ovviamente anche per il territorio. Per arricchire questo importante patrimonio di dati statistici è fondamentale la piena collaborazione delle famiglie scelte al campione. Partecipare al censimento è un dovere morale, ancora prima di un obbligo di legge, la cui violazione può comportare l'applicazione di una sanzione amministrativa. Il censimento si basa su due rilevazioni distinte, le famiglie al campione coinvolte partecipano dunque a due distinte rilevazioni. La rilevazione da lista prevede di regola la compilazione autonoma del questionario online sul sito Istat per le famiglie al campione che ricevono una lettera nominativa con le informazioni sul censimento e con le proprie credenziali di accesso. E poi c'è la rilevazione reale alla quale partecipano le famiglie che risiedono nei territori campione che saranno avvisate tramite locandina e lettera. Prevede invece la compilazione del questionario tramite un rilevatore incaricato dal comune. Per ogni dubbio, gli intestatari delle famiglie campione possono chiedere informazioni o ricevere assistenza contattando direttamente il numero verde Istat 800 188 802 attivo tutti i giorni dal 1 ottobre al 23 dicembre, compresi sabato e domenica, dalle 9 alle 21 oppure contattando il centro comunale di rilevazione del CCR al numero 079 99 78 614 o recarsi presso la sede del CCR presso gli uffici dei servizi demografici di via Catalogna 52 58 aperta al pubblico nei pomeriggi di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15 alle 18. Sarà Tonino Budruni a caratterizzare il secondo appuntamento della rassegna letteraria Fogli d'autunno promossa dalla Proloco di Villanova Monteleone in collaborazione con l'amministrazione comunale. Domani alle 18.30 presso la sala Angelo Diez de Supalatu sarà infatti presentato l'ultimo libro dello storico algherese, La Grande Guerra. Il lavoro di Budruni, frutto di una minuziosa ricerca archivistica e documentale, riesce a rappresentare con dovizia di particolari il clima vissuto in quegli anni nella città di Alghero e nel territorio circostante descrivendo le sofferenze, la miseria e l'attesa di chi rimase ad aspettare comunicazioni dal fronte che spesso non arrivavano se non per comunicare le notizie peggiori. L'evento, inserito all'interno delle celebrazioni per il centenario della milita ignoto, verrà aperto dal saluto del sindaco di Villanova Monteleone Vincenzo Ligios per proseguire con la chiacchierata tra l'editore Salvatore Itza e l'autore introduce e coordina Salvatore Meloni, rappresentanza della Proloco di Villanova. Nella pagina sportiva del TG di ieri abbiamo dato notizia dell'importante vittoria del giovane tennista algherese Lorenzo Carboni al torneo ITF Junior di Bari. Un successo che vale un balzo rilevante nella classifica mondiale che conferma la crescita di questo giocatore ancora 15 anni. In occasione del suo ritorno a casa per il Ponte di Unissanti lo abbiamo incontrato al Tennis Club Alghero prima di una seduta di allenamento. La nostra Dolores Serra ha chiacchierato con lui. Abbiamo cambiato location. Ci fa piacere tornare agli origini. Iniziamo al Tennis Club di Alghero, quindi qui a Maria Pia con Lorenzo Carboni. Ciao Lorenzo. Dagli studi di Catalan veniamo qui all'aperto perché hai vinto un importantissimo torneo Junior ITF a Bari, il primo torneo internazionale che vinci. Sì, è una grande emozione tornare qui dopo aver vinto l'ITF a Bari. Mi hanno fatto tante persone i complimenti e sono contento. È una grande emozione. Per noi algheresi è ovviamente un orgoglio sapere che tu che compirai 16 anni a febbraio prossimo ti stai proiettando comunque nel tennis che conta. Piano piano, a piccoli passi, stai facendo il tuo percorso data la tua età. Però è un torneo tecnicamente, diciamo, alle nostre telespettatorie importante perché ti fa fare un balzo in classifica non indifferente. Sì, sicuramente sia un bel balzo di classifica, però diciamo che noi stiamo sempre sul miglioramento e non guardiamo, diciamo, la classifica. Quindi è stato un gran percorso e sono contento in generale. Nel torneo di Bari ti sei dovuto comunque misurare con una concorrenza abbastanza guerrita e poi sei finito in finale con un altro italiano battendolo. Com'è stato questo torneo? Che livello c'era? Beh, il livello era sempre abbastanza alto. Ho dovuto anche ribaltare, diciamo, certe partite dove perdevo il primo set e magari stavo perdendo anche il secondo e alla fine sono riuscito a ribaltare il punteggio e a vincere la partita. Adesso sei qua, ma giusto per il ponte di ogni istante, ma poi devi partire subito perché ti devi preparare. Ci sono altre cose che ti aspettano, altri tornei, altri appuntamenti? Sì, adesso ci sono altri tornei. Dovrei andare a Liverpool, però non si sa. Forse hanno cancellato i tornei per il Covid e poi andrò in America a fare l'Orange Bowl che è uno dei tornei più importanti del mondo. Che cosa ti aspetti, Lorenzo, da questo fine 2021 e magari guardiamo al 2022? Beh, sicuramente è stato un anno di crescita, molto costruttivo, un anno di costruzione e sono contento perché comunque ho fatto tanti passi avanti quest'anno. Qui al Tennis Club di Maria Pia, lo diciamo in chiusura, siamo arrivati, tutti lo salutano, tutti sorridono, tutti lo abbracciano perché poi alla fine Lorenzo è uno di famiglia qui, quindi vederlo, anche i maestri lo vedono, lo salutano. Che impressione ti fa quando vedi tutti i tuoi compagni, i tuoi amici, i tuoi maestri che ti salutano? È una grande, sì, mi rende molto felice e quindi sono ancora più felice di venire qua a vedere tutti i maestri, i ragazzi che mi salutano, mi ringraziano, è una bella emozione. È una bella emozione anche stare a Bordighera dove c'è Piatti che comunque, lo sappiamo, la sua accademia è molto prestigiosa, Elena Yannick Sinner, tutti ormai conoscono Sinner, che il tennis si sta prendendo un bello spazio anche all'interno delle attrazioni sportive che gli italiani guardano di più, però ti manca Alguero? Alguero sì, sto la maggior parte del tempo a Bordighera, quindi sì, mi manca Alguero, i miei amici e quindi sono sempre contento di tornare qua. Allora, complimenti davvero a Lorenzo. Per gli atleti dell'Alguero Bike, invece, quello passato è stato un altro fine settimana, molto impegnativo in cui, oltre a dimostrare la solita tenacia impegno, hanno dovuto battersi con condizioni meteo non troppo agevoli. La giornata di domenica ha visto gli allievi Mattia Solferino, Gabriele Carboni, Luigi Carboni, Giulia Contini alle prese con la gara Cross Country XC svolta nella suggestiva ambientazione della miniera di Montevecchio. sempre domenica, 31 ottobre, nell'ambito dell'evento Sardegna Tri-6, nella giornata dedicata alla triathlon Cross Country, svoltasi con discipline di nuoto, mountain bike e corsa su trail. Luciano Cattoni ha partecipato alla vittoria finale della staffetta insieme a Paolo De Montis Marco Passeroil, tutto nella stupenda spiaggia di Marinella, fra Golfo Aranci e Porto Rotondo. In chiusura di TG la nostra rubrica, torniamo al cinema, in programmazione nella sala del Miramare è in contemporanea nazionale da oggi e fino a martedì 9 novembre Eternals. Il primo spettacolo è previsto alle 17.30, il secondo invece alle 20.45. Per la prenotazione online, lo ricordiamo sempre, il sito è live-ticket.it cinema Miram, slash, cinema Miramare, Alghero. Alla sala si accede muniti di Green Pass e per permettere il controllo all'ingresso si consiglia di arrivare un po' in anticipo rispetto all'orario delle proiezioni. E per oggi è tutto, io come sempre vi lascio al meteo, grazie per essere stati con noi, arrivederci.